Io sicuramente voglio fare parte di questo progetto, voglio essere dentro questa squadra, lavoro ogni giorno per essere a questo livello e far vedere che mi merito una grande Roma e sicuramente non mi vedo andare. Poi ho sempre detto che decide sempre la società, decide il direttore, se domani mi dicono che devi andare via per problemi economici mi dispiace, mi dispiace molto ma farò quello che vuole la società, ma io mi sento romanista e voglio stare qua a lungo.